bentornati a tutti ragazzi e ragazze con questo video voglio farvi vedere questo trucco sul violetto che mi faccio spesso scusate ma la videocamera del cellulare non ha registrato l'inizio del trucco comunque io per questo trucco ho usato la palettina carnival 3db perfect e su tutta la palpebra mobile andando anche un po in alto verso quella fissa ho sfumato a modi smoky l'ombretto blue moon che per me è il più bello in assoluto della palette questo viola con riflessi azzurri bellissimo fotonico satinato anzi direi shimmer e poi nell'angolo esterno come vedete ho messo un viola scuro io matt io ho usato blackberry in questo caso voi potete usare qualsiasi viola scuro matt e l'ho sfumato anche nella conca della palpebra che sapete io non ho visibile vedete che mi viene questa forma di occhi un pochettino a goccia come trucco e poi dopo io andrò a sistemarlo con la mia salviettina come sapete qui nella conca per sfumare verso la palpebra fissa uso un ombretto diciamo proprio lilla che si chiama tahiti sempre matte tahiti della palette bellissimo secondo me è la sfumatura naturale di questo trucco guardate che bello fa risaltare gli occhi marroni tantissimo scusate per l'inquadratura perché come sempre purtroppo faccio quello che posso con la fotocamera del cellulare cercherò di stare più fissa poi prendo questo pennellino angolato con le setole corte però quindi quello da sopracciglia e lo uso per applicare nella rima inferiore dell'occhio nella waterline inferiore un ombretto molto bello particolare sempre matte hibiscus si chiama ed è un corallo fluo che però purtroppo non rende molto la prossima volta proverò con una base bianca sotto perché in cialda è veramente spettacolare è un corallo fluo io di solito tendo a non mettere questi colori molto caldi e vivi nella palpebra inferiore perché mi fanno un po l'effetto occhio pesto però stavolta ho voluto provare per dare un po di contrasto con l'ombretto completamente freddo che ho nella palpebra superiore e farò un trucco ancora più colorato metto quindi questo hibiscus vedete in tutta la rima inferiore vado anche nell'infraccigliare intanto si vede anche il trucco che ho fatto nel video precedente se volete vederlo è l'eyeliner grafico blu e poi vado anche un po nella rima superiore nella waterline superiore per riprendere un pochino il colore quindi nell'angolo interno dell'occhio scusate la ripresa ma avevo bisogno di guardare lo specchio ecco ora ritorno in quadrata vedete l'ombretto nella palpebra superiore questo blue moon è bellissimo veramente io non ho mai avuto un ombretto così bello neanche di nabla neanche di ovviamente non ho provato padme grat però questo veramente è stupendo ecco e adesso per dare un pochino più di intensità per non far sembrare l'occhio malaticcio metto proprio nell'infraccigliare inferiore un pochino della dell'ombretto frutti che è una invece una magenta bellissimo freddo si vede poco perché ne ho voluto usare anche poco per non togliere appunto il fluo del colore precedente però mi aiuta a dare un pochino di definizione all'occhio a me piace molto questo trucco me lo faccio spesso ecco nella rima interna dell'occhio per dare questo tocco di particolarità che non uso sempre metto i glitter quelli di winy che hanno appunto sono questi glitter violetto azzurri su base trasparente che sono veramente veramente belli adatti a questo trucco da mettere nella rima interna guardate come viene esaltato il castano dell'iride proprio da questi colori forse in videocamera rende meno ma qui allo specchio vi assicuro che sembrano quasi occhi nocciola ecco e come vi dicevo prima io aggiusto la mia forma quindi do definizione con una salviettina struccante infatti non ho la base sotto non ho fatto il contorno occhi e questo mi permette di dare questa forma bella precisa all'insù che invece non riesco a conseguire perché senza guide perché appunto come vedete bene ho l'occhio ho la palpebra cadente perfetto ora sto armeggiando per cercare il mascara che sono andata a procurarmi e perché voglio dare una passatina di mascara nella waterline inferiore per cercare di dare un pochino di definizione ma senza mettere una matita scura che mi coprirebbe completamente il tono degli ombretti che ho messo quindi cerco di mettere un po' di mascara sotto lo ripasso un po' anche sopra perché ce l'avevo dalla mattina e quindi insomma ridiamogli una bottarella di vita vedete che è un bello ombretto il mascara dell'astra waterproof quello nuovo uscito in confezione azzurra che è molto molto performante separa anche le ciglia e questo è il trucco finito molto semplice il protagonista di questo trucco ovviamente è l'ombretto blue moon ciao a tutti grazie per avermi seguito a prestissimo